Voci.fm News, ultimissime dal mondo della voce. Bentrovati all'ascolto da Angelo Costanzo. Arriva al cinema il film d'animazione ucraino Mafka e la foresta incantata. Il lungometraggio racconta le avventure di Mafka, anima delle foreste ucraine, doppiata da Emanuela Ionica e del giovane Lucas, doppiato da Andrea Oldani. Tra le voci italiane anche quella della popolare illustratrice e animatrice Francesca Presentini in arte Fra Frog al suo esordio a Leggio grazie al personaggio della ninfa ondina. La quinta e ultima stagione della pluripremiata serie comedy La fantastica signora Maisel è su Prime Video, Rachel Brosanhan interprete di Miriam Maisel e doppiata da Valentina Favazza. Operation Fortune è l'atteso film Sky Original di Guy Ritchie con protagonista Jason Statham doppiato da Francesco Prando, tra gli interpreti Hugh Grant doppiato da Luca Ward, Aubrey Plaza doppiata da Domitilla D'Amico e Josh Hartnett doppiato da Andrea Mete. Prima giornata di trasmissioni di Radio Cecchetto con una programmazione musicale di grandi successi selezionata dal suo fondatore con inserti e promo storici. La diffusione della nuova emittente di Claudio Cecchetto, già fondatore di Radio DJ e Radio Capital, avviene in Dub Più e su App per Mobile, Skill Alexa e Smart TV. Cambio al vertice della classifica dei brani più trasmessi in radio, Primo è un briciolo di Allegria di Blanco e Mina seguito da Mon Amore di Annalisa. È tutto da Angelo Costanzo e buon ascolto su Voci.fm Radio.